Ciao a tutti e bentornati! Allora, in casa d'Alimberti fervono i preparativi affinché questo Natale sia merdaviglioso come l'anno scorso. Dice, ma quale meraviglioso, l'anno scorso li hanno lasciati letteralmente da soli e vabbè, ora però non stiamo ad analizzare ogni minimo dettaglio. Dicevamo che i conegi si stanno adoperando per addobbare al meglio la casa e dopo aver posizionato tutti gli ignomi in posti strategici della casa, ieri hanno fatto l'albero di Natale rosa. Il tutto documentato in un vlog che vi terrà col fiato sospeso per 12 minuti e 49 secondi. Non ci credete? E allora non vi resta che venire ad ascoltare. Il vlog inizia dal salone delle feste, ovvero la loro sala, dove è già stato montato chi? L'albero. Posizionate tutte le lucine e a posto qualche decorazione, tipo che? Tipo l'unicorno volante con la carrozza a forma di zucca. E wow, ci sono tutti i presupposti affinché questo Natale sia merdaviglioso. Torniamo al racconto che rappresenta anche, dimenticavo, il primo vlogmas di questo dicembre. Dicembre che? Dicembre 2023. Bene, la scatola degli addobbi e il puntale a forma di stella in cemento armato e glitter sono già pronti. Si procede con l'allestimento. Lei indossa un pigiama rosso con tutti i disegnini natalizi e tra una decorazione e l'altra fa dei balletti. Dice, e come sono sti balletti? Eh, è una parola. Un utente chiede, dato che la damma nera imita chiara in tutto e per tutto, questo vuol dire che a breve pure lei farà i balletti mentre addobba l'albero? Caro utente, che dire? Io spero di no, ma oramai. È come dire una nave che ha lasciato il porto. Ma torniamo a quella che è la protagonista vera e propria di questa parte del mio riassuntone, ovvero la nostra figona, che continua a ballare con movenze sexy e sinuose. Sinuose. E la risposta alla vostra domanda è sì, oggi ho qualche problema con la S, ma voi, come al solito, fate finta di niente. Comunque, adesso, a vederlo bene, credo che questo non sia l'albero rosa dell'anno scorso. Mi sembra di gran lunga più piccolo, l'anno scorso il puntale arrivava all'inquilina del piano di sopra. Però, vi dirò che questo rosa in combo col bianco non mi dispiace. La parte di lei che addobba l'albero mi ha fatto cadere un po' alle palline natalizia, quindi io direi portiamo un po' il video avanti e arriviamo fino al punto in cui mostra il risultato finale. La parte finale di questo merdavidioso vlog è rappresentata da chi? Da Davide, che completa l'opera in che modo? Posizionando il puntale. E il puntale a forma di stella. Perché se si fosse trattato dell'altro puntale, avrei dovuto impostare delle restrizioni al mio meraviglioso riassuntone. Ora, per concludere in bellezza, i coniugi salutano tutta la loro utenza stretti in un caldo abbraccio e vi invitano a seguire quelli che saranno i loro prossimi contenuti. Bene, e noi passiamo ad un altro personaggio. Parliamo di Davide che proprio ieri ha caricato un nuovo merdavidioso vlog dal titolo Sono contento, Vlogmas deve aver pucciato il biscottino. Dice, sì ma tipo chi? Beh, tipo antisocial. Il vlog inizia con i nostri due vipponi milanesi che sono ingiubbettati e per strada. Si sono recati nel negozio per ritirare un pacco di sheen che non gli avevano consegnato a casa. Ritirato il pacco si dirigono al supermercato perché Davide ha espressamente richiesto della panna. Mi sa che ci aveva visto giusto dottor Dissing, che salutiamo. Appena entrati nel supermercato ci becchiamo la solita carrellata di prodotti, in questo caso dei panettoni, una valanga di panettoni. E poi lei prende dallo scaffale un pacco di biscotti pan di stelle, quelli dell'edizione natalizia, e chiede a Davide, me li prendi? Ma ce li ha già tra le mani. E così deve essere. E poi mi scende una profonda tristezza. Perché? Perché ripenso a quando la medium sorianese chiese un pacco di merendine e rimase a bocca aperta e mani vuote. Oddio che depressione. Nel frattempo abbiamo trovato pure la panna spray. Altro breve giro tra gli scaffali e poi si ritorna a casa. Sulla via si fermano per comprare della pizza al taglio, per cosa? Per cena. Una volta a casa ci mostrano la pizza acquistata e ci salutano. Però non hanno spiegato il perché lui fosse tanto contento. Ma vabbè. E noi cambiamo personaggio. Parliamo di Fabrizio Os, che sta facendo il botto con i suoi due ultimi video dedicati a Chiara Paradisi. E qui è d'obbligo dire che Fabri è tra i pochissimi che riesce a portare degli scoop, parlarne in modo genuino e aprire delle discussioni, che poi fanno eco di canale in canale. La vicenda di cui racconta Fabri è la litigata avvenuta in diretta tra Chiara Paradisi e la sua compagna Milena. Bene, e noi cambiamo personaggio. Parliamo della acrimoniosa sorianese, nonché medium e satanista, la quale non ha perso tempo ad aprire una live per criticare, con risate estetiche, gli ultimi acquisti mostrati da Chiara, dove nel suo ultimo video haul. Nella fattispecie una borsetta a forma di zucca, pagata 70 euro. Ora, al di là del fatto che non sia tutto sto gran vedere, sta borsetta, e sicuramente in tanti non l'avremmo mai comprata, però il punto è che Chiara può e non ha da chiedere il permesso a nessuno, né a sua madre, né al suo compagno. No, lei va, le piace un qualcosa, se lo compra. Ora, volendo fare un confronto diretto ed immediato, secondo voi è meglio la posizione di Chiara, che guadagna e spende e compra ciò che vuole, o la posizione della dama, che guadagna però i soldi li vede solo passare, perché poi a gestire il tutto è calogero, che decide in modo dittatoriale il come, quando, dove, perché spendere quei soldi guadagnati da lei. In tutta onestà, la posizione migliore è quella di Chiara, e anche quella più normale. Se poi ci vogliamo catapultare nel 1200, e allora scegliamo la posizione numero due, e cioè quella occupata dalla dama. Costellata di rinunce e desideri irrealizzati. E con questo ci spieghiamo anche l'isteria delle sue risate. Allora, io l'ultimo video haul di Chiara non l'ho ancora recuperato, forse entro stasera riesco a recuperare un qualcosa, e organizzo un secondo video della giornata. Però devo dire che, quando guardo i video di Chiara, cioè, più che dire questa cosa io sicuramente non la comprerei, non è che sto lì a dire, ah, però, così, però, colà. Cioè, ma che cazzo? A me divertono un botto i video haul di Chiara. Poi, al di là del fatto che lei spenda tanto per cose che noi riteniamo inutili, infantili, a volte tamarre, però c'è di fatto che con i suoi contenuti, belli o brutti che siano, comunque riesce a ricavarne un qualcosa, e con questo qualcosa lei si compra quello che vuole. E dal momento in cui lei, per comprarsi queste cose, non chiede donazioni, non chiede soldi dall'utenza, non chiede pacchi, non chiede nulla, noi, da spettatori, più che dire questa cosa non ci piace, di più non possiamo. Altro che stare a fare live, su live, su live, ad analizzare dettaglio per dettaglio, ogni suo acquisto con finte risate, prevalentemente isteriche, cioè, lì è tutta invidia, né più né meno. Se vogliamo essere onesti, è così, se poi vogliamo fingere che non sia così, è tutto un altro paio di mani. E poi, se vogliamo, è il problema di tanti, e cioè quale? Che nella loro vita reale hanno tante problematiche, tanti disagi, tante frustrazioni, che vengono a sfogare qui su YouTube. L'hanno preso un po' come il lettino dello psicologo, solo che loro fanno da psicologo, da paziente, da giuria, da tutto. E quindi la cosa senza obiettività diventa decisamente poco equilibrata. Dice perché? Perché poi ti ritrovi delle live di soggetti strampalati che se la cantano e se la suonano. Fanno tutto da soli, insomma. Beh, io adesso vi saluto, credo aver detto tutto ciò che volevo dire. Vi saluto perché ho da recuperare due contenuti specifici. Però voglio concludere questo riassuntone dicendo viva Chiara che comunque guadagna, è una donna emancipata e spende ciò che vuole. Donne, non fatevi sottomettere dai vostri mariti, compagni, fidanzati, perché non siamo più nel 1200, ma nel 2023. Sveglia! Vi invito a seguire quello che sarà il prossimo contenuto e nel frattempo che succede tutto questo, un bacio a tutti da Gossip. Grazie. Grazie. Grazie.